Dopo che nel viaggio precedente sono stato a Praga a prendere tantissimo freddo, ho detto basta, il prossimo viaggio deve essere al mare, devo andare a fare il bagno a dicembre. Così che mi sono messo a cercare ho trovato un posto in cui ci sono 30 gradi. Le canali. Come al solito arrivo la sera e andiamo subito a mangiare qualcosa di tipico, le patate e la carne. Ragazzi, la mia prima volta nell'oceano. Che no si vede. Però che piccola. Buongiorno ragazzi. Prima vera giornata a Gran Canaria. Quindi siamo arrivati la sera. Oggi dobbiamo un po' di cose in programma. Dobbiamo vedere le dune dei Maspanomas. Adesso, il sole albeggiato. Un sacco di nuove esperienze insieme. Noi soggiornavamo nel sud dell'isola, a Maspanomas. Per l'esattezza a Sonnenland. E siamo subito a Napoli. Ci siamo fatti la colazione tutta italiana con la sbogliatella. Adesso andiamo ai cammelli. L'isola sta veramente vicino all'eserato del Sahara. Infatti anche qui possiamo trovare i cammelli e le dune del deserto. Like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 in Blu Rock. Memories of six kids running around. Those halls. So, so. L'esperienza super consigliata se vi trovate a Maspanomas è il giro in cammello. Anche per due persone. Il costo è di una decina di euro. Dura circa una mezz'oretta. Mio. 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 A Gaffigata siamo andati in cammello, il giroio in cammello durava 30 minuti, il costo è di 12 euro, una bella esperienza Peccato non ci ho raccontato niente, guida né nulla, però è stata sicuramente una nuova esperienza, carina Bellissimi i cammelli, abbiamo percorso le dune di Maspalomas e ora andiamo a vedere la playa di Maspalomas La maggiore attrazione dell'isola sono le dune di Maspalomas, delle vere e proprie dune di sabbia, tipo deserto Questa cosa è che si sta a petto nudo, al mare, a diciamo, perfettamente Lì ci sono le dune, possiamo vedere Buona parte della spiaggia di Maspalomas è dedicata ai nudisti, per cui se siete deboli di cuore, ehi non andateci però ne vale la pena lo stesso Bene adesso buttati dalla cima della duna a Pancetti Buona parte Buona parte Luca, buona parte rispetto al visto e raga siamo sopra alla duna in grande infatti lo si raga anche qua alle canali finiamo nella scuola non vi faccio vedere niente è un spettacolo per questa nostra vacanza sull'isola abbiamo deciso di prenotare una macchina da Autohorizon il piazza di 173 euro per 5 giorni ma direi che la macchina è obbligatoria per vedersi l'isola in Regas abbiamo uscito Maspalomas adesso siamo a Puerto de Mogán seconda meta del nostro viaggio è il Puerto de Mogán Puerto de Mogán è nominato anche la piccola Venezia o la Venezia delle Canarie gli è stato dato per via dei canali che collegano il porto turistico al porto dei pescatori è veramente un posto bellissimo che ricorda un sacco la Grecia con queste case bianche e mille colori siamo qui nel centro del Puerto de Mogán è una figata estra caratteristica con tutte le casette bianche grazie 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 queste sono le patate canarine il secondo plato è il panino che praticamente erano tre hamburger è solo che uno era naked burger non pensavo fosse solo un hamburger e invece... mamma mia grazie Filippo ha preso mamma mia ragazzi abbiamo mangiato un sacco ecco ho il cinghazzo da un sacco di tempo comunque fa caldissimo se vestite mi stai muriendo però era buono cioè allora io penso che mi ricorderò tantissimo questa vacanza per una cosa in particolare per l'aglio che cosa cioè boh cioè praticamente il cibo è aglio con qualcosa delle cose in generale questo posto è soprannominato anche la piccola Venezia perché ha un canale ho signoroso l'odio mi ricordo mi ricordo ma mi ricordo mi ricordo è un bambino comence il bagno a dicembre una bassista in storia But I was supposed to find Someone to share these moments with Someone to share this right When fate has its way And things fall into place All the plans you make Don't make sense anymore Honey, I am sure Love was a good detour Love was a good detour Cause all the beautiful places I've been And all the dreams that I've been chasing What would they mean All the plans you make Don't make sense anymore More, honey, I am sure Love was a good detour Love was a good detour Per Agis siamo saliti sopra le montagne Con la macchina Non siamo nella cima Perché la strada è veramente faticosa Sì, è pieno di tornanti È stretta Però c'è una vista che è assurda È unica San Filippo in super ansia E speranza che avrà più forte Cioè Mamma mia C'è proprio C'è magari a peggio di Tipo Non so Comunque si arriva fino alla cima Solo che ci vogliono Un'ora Dalla spiaggia Poi ci sono anche un paio di laghi Un paio di Molte cose anche in mezzo Alla natura da vedere Ragazzi adesso In vero stile spagnolo Abbiamo fatto la siesta E poi andiamo a mangiare Siamo tornati giù dalla montagna Adesso siamo nel nostro restaurant E andiamo a mangiare un po' economico Ci proviamo Sì, può mangiare ancora cena ieri Pranzo oggi Stamata senza salsa Un po' mi dispiace E' un po' sono contatto Sono combattuto Tra i sentimenti Con questo De questo Siamo Ora siamo qua In centro A Maspalomas Ci sono un sacco di hotel Cioè, questo hotel qua Che è fantastico Qua ci sono un sacco di Locali turisti Tipo te la Cisha Bar La Sireneta pura Qua 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 Sarà buon Fonica E adesso qua siamo sotto Cuo è like Pasta le pan medinata Tanti Poi Poi Aspen Grazie per la visione! Grazie per la visione!